Una buona giornata dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 tratto chiuso per lavori in direzione Bologna tra il Vivio per la variante di Valico e Aglio. Sulla Fipili due chilometri di coda per lavori in direzione Firenze tra Montelubo e Ginestra. E ci sono rallentamenti per traffico intenso in direzione Firenze tra Prato Est e il Vivio per la A1. Sulla Siena-Bettolle per lavori chiuso lo svincolo di Sinalunga in ingresso e in uscita in direzione Siena. Con raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra l'allacciamento A1 di Firenze in Pruneta e San Casciano. La viabilità cittadina per lavori di asfaltatura e Nungarno dei Pioppi, restringimenti di carreggiata e di vieti di sosta. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!